La popolazione, i cittadini italiani si vedono da una parte limitati nella loro libertà perché oggettivamente sempre più sono i casi di piccola e non neanche tanto piccola episodi di criminalità compiuti da persone che non si sa chi sono, non sono solo loro perché se fossero solo loro avremmo risolto il problema ovviamente criminalità in Italia, però ovviamente gran parte sono questi. La gente ha paura, ci sono persone che non si sa che sono che girano le nostre città, spesso e volentieri non si sa come campano e quindi si deduce che in qualche modo devono campare, devono mangiare e quindi abbiamo tutta una serie di fenomeni che ben conosciamo. La gente ha paura da una parte ma dall'altra come dicevo si vede limitata la propria libertà, vede limitati anche i propri diritti. Ma queste persone per esempio che vivono in questo palazzo a Genova io mi chiedo quanto hanno pagato per acquistare quella casa per esempio, quanto pagano di tasse? Le persone che sono state inserite in questa casa, questi immigrati hanno diritto a stare lì? Prima domanda, io non conosco il caso specifico però è una domanda che mi pongo, però telefoniamo al nostro inviato e chiediamogli questa cosa. Pagano le tasse quindi? E la tassa sui rifiuti? Pagano l'acqua? Pagano la luce? O li paga qualcun altro? E da qua, quante cooperative ci sono arricchite sulla gestione degli immigrati? Gennaro?